allora maio questo è il tubo dell'acqua prima che arriva ai contatori ora vi faccio vedere di qua ecco qua prima che arriva l'acqua ai contatori come puoi vedere qua ci sono i contatori vedi ma che secondo me c'è pure qualcosa fa che perde non lo so ecco qua questi sono i contatori questi sono i contatori e questo sta sotto al finestrone questo questa è la perdita allora praticamente dicevano nel palazzo che qua prima c'era una chiave quella lì che chiude la condotta di tutti i contatori quindi questa è l'acqua prima che arriva ai contatori e c'era questa chiave d'arresto che adesso non c'è più l'acqua viene da qua qua stiamo giù in una cantina per questo signore che forse si interesserà ecco questa è l'altra parte dei contatori eccola qua questa è l'altra parte dei contatori ecco come è fatto l'impianto e poi sale sale viene da noi questo qua metti un po di qua di luciole fuori ecco questo gira così non mi chieda dove viene perché non lo so comunque questo è guarda vedi d'accordo se ci sono problemi mi chiami ciao